Ragazzi, siamo al terzo round, ovviamente test, 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 test the pants. Caragianji, allora siamo giunti al terzo livello. Il più difficile. Il più difficile. Le immagini si commentano da sole. Signore, qua siamo allo spettacolo. Questo gelatino è fatto in casa. E soprattutto una riduzione, un aceto balsamico. Cioè questo ce lo gustiamo per ultimo, deve essere qualcosa di spettacolare. Signore, tutto fatto in casa. Rendetevi conto. In un borgo mediovale spettacolare. Signora Giangi, com'è? Direi che, guarda, aspetta, è saggio e vi dico, perché se no sembra che... Non ce la faceva più, signora Giangi, diciamo. Esatto. Perché uno deve assaggiare, se no cosa fa? Dice buono. Sì, ma questo è il secondo boccone comunque, eh? Forse anche il terzo. Com'è, com'è? Cioè, è oltre. E vabbè, se la Giangi sui dolci, apostrofa, il piatto, com'è oltre... Scarta di dolci. Cari utenti, fidatevi, sai, semplicemente spettacolo. Fidatevi o venite quasi a me. Ragazzi, dopo questo vi diciamo solo che partiremo con un noccino aggressivissimo e un caffè. Ma al noccino penso non saremo più in grado di farvi video articoli. Da Savignano sul Panaro, Trattoria Amelia, il Ferrara Giangi. Sì, in riflessione, in riflessione. Signori, buonanotte da quaddisti.it. Spettacolo, spettacolo.